Proteggere, intervenire, educare. Tre verbi che il Vescovo usa per descrivere le forze armate. Alla messa in cattedrale tutte le divise sono in festa. Si celebra il 4 novembre, anniversario della vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale e la firma dell'armistizio. Più di cent'anni dopo non viene meno quel legame di fiducia tra la gente e le forze di sicurezza. Per l'istituto, per Stelmilite sul territorio abbiamo già fatto molte attività, in particolare il contrasto alla pandemia, il supporto al contrasto alla pandemia con l'Hub vaccinale che si è concluso qualche giorno fa, quindi questo è sicuramente un continuum nella nostra presenza sul territorio. Come giornata delle forze armate, essendo un istituto interforze, per noi è ancora più sentita in quanto rappresentiamo tutte e quattro le forze armate. Monsignor De Vasini, nel saluto iniziale, ricorda la necessaria missione delle forze armate di proteggere le persone da tutte le forme di soprafazione, soprattutto i più deboli, che non possono affermare da soli i propri diritti. Intervento dunque spesso duro contro i comportamenti rispettosi, ma anche azione educativa per una vita sociale migliore. Vi ringrazio anche a nome dei cittadini per questa vostra custodia premurosa e generosa, strumento della cura del Signore per tutti noi, sue creature. E poi, cosa buona e giusta, ricordare con immensa gratitudine le tante missioni di pace svolte dalle forze armate in varie parti del mondo ed universalmente apprezzate per la loro esemplare testimonianza di generosità e spirito di sacrificio.